in passato avevo l'abitudine di salire in macchina e guidare fino al mio vecchio quartiere quello in cui sono cresciuto arrivavo lì e passavo davanti alle case in cui avevo vissuto lo facevo soprattutto di notte perché spesso rimanevo sveglio e l'ho fatto con una certa regolarità due tre quattro volte alla settimana per anni finché un giorno mi sono chiesto ma che cosa diavolo mi è preso così sono andato da un analista e giuro che è vero sono andato lì mi sono seduto e gli ho detto dottore per anni sono salito in macchina e sono tornato nel mio vecchio paese a guardare le case dove avevo vissuto in piena notte e vorrei capire cosa significa e lui ha detto dimmelo tu perché lo hai fatto veramente la pago proprio per questo e lui mi ha risposto forse ti senti in colpa per qualcosa e stai cercando un modo per liberarti di quel peso hai commesso un errore e quindi continui a tornare sui tuoi passi per vedere se puoi rimediare al che io ho detto è proprio così e lui non puoi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti